Quest'anno era un esperimento perché per la prima volta abbiamo cambiato location, abbiamo lasciato la storica Piazza San Gaetano e avendo fatto i lavori del lungomare, il lungomare di Forio si prestava di più, perché prima, non so se chi ci ascolta si ricorda, c'era un muretto che divideva la strada dai locali, ora invece si è creata una bella piazza praticamente davanti all'hotel Carolina, Villa Carolina e quindi là veramente è ottimo come luogo per fare manifestazioni, non solo la Forio in Corsa, perché gli spazi sono ampi, la strada è dritta e non si crea quell'affollamento che si creava in Piazza San Gaetano, che forse all'inizio era anche bello perché sembravamo di più, eravamo più raccolti, però ora che i numeri stanno crescendo avevamo bisogno di più spazio e l'esperimento è riuscito. L'ultima volta che noi facemmo la Forio in Corsa a Piazza San Gaetano fu nel 2019, 31 dicembre, perché poi nel 2021 non si è fatta più il 31, abbiamo spostato al 2 gennaio e ci siamo trovati quest'anno, cosa unica, a svolgere due Forio in Corsa nello stesso anno, perché l'edizione del 2021 fu spostata al 2 gennaio e questa del 2022 è rimasta 30 dicembre, diciamo quella del 2 gennaio era l'edizione del 2021. Il motivo è perché noi che siamo stati, lo dico scherzosamente, nessuno se le vuole a mano, ma il brunch l'ha creato la Forio in Corsa, perché la Forio in Corsa è nata nel 2005 e noi dal 2005 dopo le gare dei bambini e della gara alla Forio in Corsa facevamo con la pizzeria da strampato con Geppe e Coimigli gli spicchi di pizza, poi abbiamo messo anche la pasta e fagioli, delle volte il Saturnino ha cucinato e ha portato anche delle altre maccheroni, insomma noi facevamo il brunch da più di un decennio, poi la moda ha voluto che il brunch lo facessero tutti e non solo noi, quindi siamo stati costretti a spostare per non sovrapporci, perché immaginatevi voi, chiudete un attimo gli occhi, pensate al 31 dicembre sul lungomare di Forio a via Marina, immaginate se c'eravamo noi e quelli che mangiavano, ballavano, era una cosa impossibile da fare e quindi per distinguere le due cose abbiamo scelto di anticipare o come l'anno scorso posticipare di un giorno. L'incredente segreto è quello di curare le gare dei bambini, perché le gare dei bambini ci danno tanta gioia, ce l'hanno sempre data e tra l'altro è l'unico appuntamento che questi bambini hanno per poter fare una corsa senza sentirsi dire dai genitori non correre, finalmente in quel giorno loro si mettono la maglietta, si mettono il pettorale, si sentono protagonisti, perché ci sono tanti bambini piccoli che non hanno ancora iniziato gli sport di squadra che si fanno, il catch, il basket, perché abbiamo bambini dai 4 ai 7 anni che fanno la 200 metri e lì già sentirsi protagonisti anche per un minuto, ma è tutto il preparativo prima e anche la premiazione dopo. E poi c'è la gara dei giovani, quella del chilometro e che spesso vengono quei ragazzi che probabilmente negli sport di squadra non trovano quel riscontro di piacere, perché probabilmente non gli piace il calcio, ci può stare che a un bambino non piace il calcio, è raro, ma c'è. E poi c'è qualche bambino più dotato aerobicamente, quindi è portato per la corsa e quindi a cui piace correre, finalmente c'è una gara in cui esprimersi. Siamo contenti e ci dà tanta energia, queste gare dei bambini sono probabilmente il motivo principale per cui noi organizziamo questa manifestazione.